Mi chiamo Straneo Piero, negli anni 70, anzi in particolare nel 74, io ero segretario provinciale della Federazione Giovanile Comunista, un'organizzazione che allora contava e che in provincia aveva circa 1800 iscritti, di cui 600 a Savona, soprattutto nelle scuole, le scuole superiori e anche all'università, però soprattutto nelle scuole superiori e nelle fabbriche, questo era il mio ruolo allora. Avevo 24 anni e io l'ho vissuta, voglio dire, come dirigente della Federazione Giovanile Comunista e del Partito Comunista sostanzialmente, questo è stato un po' come l'ho vissuta io. Bisogna ricordare una cosa, che Savona, la sinistra in genere, ma anche la democrazia cristiana, aveva un radicamento, voglio dire, uno spirito antifascista molto forte a Savona. Questa è una premessa per capire poi anche alcune cose che sono avvenute. C'erano state un paio di bombe precedentemente, voglio dire, nell'anno precedente, verso la fine dell'anno, però in particolare c'è stata questa sequenza di quattro bombe che sono partite mi pare dall'8 al 9 di novembre fino al 26-27, quattro bombe a distanza di quattro giorni uno dall'altra, che sono state quelle su cui è stato concentrato questo esperimento, io ritengo, di strategia della tensione da parte, voglio dire, delle forze di destra. Si parlava allora, però non è mai stato, le indagini non hanno mai poi portato a dei risultati concreti, di ordine nero, ordine nuovo, voglio dire, però le cose concrete non sono mai venute fuori. Comunque la cosa è stata questa, una sequenza continua che a mio parere come obiettivo aveva quello di misurare in una città media, come poteva essere Savona, con una presenza operaia, con una presenza, voglio dire, significativa della sinistra, ma anche degli altri partiti, quale sarebbe stata, voglio dire, la reazione popolare a una sequenza di quel tipo, tra l'altro una sequenza pesante, perché in ogni quattro giorni praticamente esplodeva una bomba, si è partiti dalla provincia, mi pare, poi alla scuola Guido Bono, poi al viadotto del santuario, dove lì si è evitato una strage, perché la bomba esplosa circa 5-6 minuti prima che passasse il treno, poi l'ultima, alla fine del mese, in via Giacchero, dove c'è stato il morto, questa signora molto anziana, insieme a altri 3-4 feriti, questa è stata una sequenza, immaginatevi una città, voglio dire, di provincia, è stata una molto, molto, voglio dire, c'era molta tensione, diciamo, nella città. La risposta è stata una risposta, secondo me, eccezionale, cioè intanto, voglio dire, si è subito risposta addirittura, dopo la prima bomba, con presidi volontari da parte dei cittadini, nei punti significativi a Piazza Mameli, Piazza della Prefettura, in via Paleocapa, davanti alla sede del Partito Comunista, del Partito Socialista, che allora erano tutte e due in via Paleocapa, e una presenza, diciamo, dei presidi che sono nati spontaneamente. Dopo la seconda bomba, invece, c'è stata una, hanno preso in mano, voglio dire, la cosa, le organizzazioni, organizzazioni politiche e sindacali, cioè il Partito Comunista, la democrazia cristiana, i sindacati e poi il ruolo, voglio dire, molto importante anche dal punto di vista dell'Unione, diciamo, dello spirito antifascista, tra lo ruolo dell'Ampi e della FIWL, che è impersonato allora dal senatore Giovanni Urbani, per l'Ampi e da Liglio Speranza, mi pare, per quanto riguarda la FIWL. E queste intenzioni da parte di tutti, ecco, di rispondere in maniera, voglio dire, pacifica, ma ferma a questa provocazione, fascista portato a delle manifestazioni che io non ho mai più visto a Savona, soprattutto dopo la terza bomba, manifestazioni che hanno praticamente coinvolto tutta la città, ecco, no? Gli studenti sono stati quelli che per primi hanno dato una dimensione di massa alle manifestazioni. Allora c'era una forte presenza delle organizzazioni giovanili politiche negli istituti, c'erano istituti in cui, voglio dire, la FIWL era gemone, come l'ITIS, il classico stesso, anche se sembra strano, voglio dire, i geometri, i ragionieri, però c'era anche una presenza, soprattutto del movimento giovanile democristiano, seppur, voglio dire, in modo molto minoritario. Comunque la risposta da parte degli studenti è stata eccezionale. Tutti gli istituti sono stati coinvolti e alle manifestazioni, voglio dire, in pratica partecipavano quasi tutti gli studenti. Diciamo che in piazza allora c'era, voglio dire, c'erano circa 4-5 mila studenti presenti in piazza della prefettura, piazza Safi oppure in piazza del comune. Questo è stato il ruolo, con un ampio dibattito all'interno delle scuole dove venivano convocate sempre delle assemblee, assemblee per dare delle risposte poi anche di carattere, diciamo, politico e organizzativo. Il clima era di, non di paura, ma diciamo che di preoccupazione, questo sì. Soprattutto da parte, allora ero giovane, per cui da parte delle persone un po' più anziane, quelle che avevano vissuto, voglio dire, guerra partigiana, la guerra in sé, voglio dire. Lì c'era preoccupazione, ma non c'era paura, cose di questo tipo. Tutto è vero che questo ha avuto un riflesso positivo nella vigilanza, perché la vigilanza è stata una cosa, voglio dire, non né spavalda da una parte, né voglio dire, così dovuta alla paura. Era una consapevolezza secondo me. Savona ha risposto bene, proprio bene da questo punto di vista. Il clima era quello, la preoccupazione c'era, soprattutto appunto in quelli che avevano avuto certe esperienze, una fascia di età, voglio dire, che andava oltre i 35 anni, questo è un po' il ricordo mio. La vigilanza aveva come centro delle società di mutuo soccorso a cui si faceva riferimento tutti quelli dei quartieri, voglio dire, i vari quartieri nelle società, dove c'era anche una relazione sociale tra le persone, perché si preparava per la notte i panini, le bevande calde, si facevano le staffette per portare la roba in certi punti dove c'erano dei punti fissi anche di sorveglianza, oltre a una sorta di pattugliamento. Ecco, allora c'era un po' tutto questo, questa attività che era, voglio dire, molto vivace e tra l'altro univa, univa. Questa era la cosa, voglio dire, di fatti secondo me, quelli che hanno fatto, quelli che avevano come obiettivo sperimentare in una città, voglio dire, antifascista, con una presenza, voglio dire, forte di partiti di sinistra, per verificare, chiaramente, voglio dire, secondo me hanno capito che difficilmente, voglio dire, sarebbe passata una linea stragista o avventurosa, avventuriera in una realtà di questo tipo, questo è un po' quello che mi ricordo io. Una delle cose, secondo me, è la vigilanza, la vigilanza ha coinvolto tutta la città, voglio dire, oltre chiaramente alle manifestazioni che sono state cose grosse, ecco, diciamo.